La Dolce Schulema è lato ovviamente. Ho fatto la scuola tedesca qui in via Legnano. Il Kindergarten d'Abitur direi dal 58 al 72. Dal 1969 al 1989. Una scimmia. Un animale accogliente, un animale un po' dolce, un panda, un sacchiotto, qualcosa con cui si sta bene vicino. E il suo venditore. Adesso pensionato. Sì, molti contatti. Per me è il punto di vista di Mailand. Penso che non avrei mai avuto la stessa stessa se non ero 19 anni. Ogni giorni ero qui. Pensazione. Analyse. È un metodo di studio. È un certo ordine mentale. Ma l'apertura mentale soprattutto. E la curiosità. Professore Marianne Much. La mia professoressa nella Ghedrai. Arturo Reimann si è cresciuti insieme. I ragazzi erano tutti meravigliosi. Anche quelli che rompevano tantissimo. A mano a mano che crescevano si rendevano conto. E diventavano dei bravissimi ragazzi anche loro. Quando facevano la maturità erano già tutti bravi. e ci si ricordava, diciamo, così, delle marachelle che facevano ridendoci sopra. No, direi che non c'è niente. Io mi sono sempre, dovrei dire, divertito in questa scuola. È meglio non dirlo. Perché c'è stata una persona soltanto che non ci salutava più. Tanto era arrabbiato con noi. A tutti i miei compagni. Abbiamo passato degli anni bellissimi insieme e li voglio salutare tutti. E a Fuaman, forse, a uno degli insegnanti che più ho apprezzato negli anni di scuola, ma forse a tanti degli insegnanti che lì ho conosciuto e che mi hanno lasciato tanto. e che mi hanno lasciato tanto. grazie. Grazie.